ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con gorgonzola mascarpone induia il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono pasta tipo rigatoni mascarpone gorgonzola induia panna da cucina vino bianco sale pepe e granella di noci diamo il via alla ricetta cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il mascarpone il gorgonzola e la panna ed azionare il bimbi per cinque minuti 80 gradi velocità 3 aggiungere l'anduja il vino bianco il pepe e il sale ed azionare il bimbi per cinque minuti 80 gradi velocità 3 versare nella ciotola con la pasta amalgamare bene spolverizzare con la granella di noci e servire pasta con gorgonzola mascarpone induia grazie e alla prossima ricetta a 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